Storia di razzismo al Campolongo Hospital di Eboli. Una donna di nazionalità italiana, ma dalla pelle nera che aveva accompagnato una sua amica da un parente, è stata avvicinata mentre si trovava nei corridoi del nosocomio da un'infermiera che le ha chiesto se fosse in possesso del permesso di soggiorno. Una domanda insolita, seguita da altri quesiti riguardanti lo status dell'interlocutrice, alla quale la donna ha risposto mostrando la sua carta d'identità di cittadina italiana a tutti gli effetti. A rendere nota la storia è il presidente vicario della Corte d'Appello di Salerno Claudio Tringali con un post pubblicato su Facebook. Ritengo, ha scritto Tringali, che purtroppo siamo in presenza di una mentalità e di un comportamento dettato dal razzismo che sta invadendo le menti e gli animi di questo paese. La richiesta del permesso di soggiorno fatta in ospedale a una donna di colore da parte di un'infermiera ne è la prova evidente. Grazie a tutti.